I agenti della Polizia Municipale sono scesi in campo sul lungomare di via Partenope per effettuare controlli ai locali, bar e ristoranti. Un'operazione di ordinaria amministrazione per accertare eventuali irregolarità tra i ristoratori del lungomare. Stamattina abbiamo avuto un controllo molto tranquillo, fatto in un orario giusto, che non ha pregiudicato il nostro lavoro, con grande professionalità e anche, c'è da dire, condotto proprio dal tenente, che è il capo dell'unità operativa a cui facciamo capo noi, il tenente Frattini, di Chiaia. Nessun problema perché ci hanno chiesto le carte, i documenti, hanno misurate, sono stati molto bravi rispetto a quello che forse è successo altre volte, di altri controlli, che sono avvenuti in momenti di super lavoro, che ci hanno creato problemi, disagia la clientela, invece questa volta è stato tutto fatto in maniera molto molto corretta.